Non sono capace Non sono capace Dai Non sono capace Guarda che metto questo su Youtube tu che dici non son capace Ok, visto che mi stressa stiamo girando le ri-prese di un nuovo videoclip tutta roba che uscirà nel 2013 questo qua è il secondo videoclip perché noi partiamo già dal secondo non facciamo il primo, niente qua fa freddo ragazzi fa freddo lui è l'attore è il protagonista facci vedere no non è vero non sono l'attore ecco il VIP è lui il VIP non guardatelo il video non guardatelo il video guarda lì 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 questo lo mettiamo nel video altro che non la politica è verità come te lo faccio come si deve con la telecamera no no con questa cosa spariamo su direttamente con la telecamera mi tocca tagliare tutto sai che palle va bene un saluto generale bello